La mia storia dell'incredibile. In otto mesi sono scese di 34 kg. È una cosa fantastica. Per molto tempo, per tanti anni, non mi truccavo, non mi preparavo, non andavo dalla parrucchiera, non andavo a fare shopping. Mi avvolgevo con dei vestiti molto più grandi della mia taglia. Mi ero quasi annullata. Non mi sentivo più io. Cosa vedevo quando mi guardavo allo specchio? Un'altra persona. Non ero io. Non era Caterina. Ho conosciuto il metodo Bioinis, ideato da Roberto Trozzo. In tre mesi sono riuscita a dimagrire 22 kg e più di 50 cm di circonferenza senza assolutamente soffrire la fatta. Prima di conoscere Bioinis, ho provato tante diete con scarsi risultati. Ero veramente scoraggiata. E ora sono felice, sono serena, sono carica. Mangio di tutto, mangio cose sane, la cosa più importante. E la cosa che più mi ha commosso dopo la dieta è ricevere complimenti del mio aspetto, che io non li ho mai ricevuti. Grazie a tutti.